Ieri sera ho partecipato al primo Consiglio regionale in presenza dove è stata convalidata la mia nomina e ho avuto il piacere di inaugurare il mio ingresso firmando un emendamento, 100.000 euro di contributo al comune di Rocca Santa Maria per una riqualificazione della famosa area del Ceppo. È un segnale per cominciare a dare vita alle nostre montagne, ai paesini che hanno più bisogno. Gli obiettivi sono sempre quelli di valorizzare la mia provincia. Sto sentendo rappresentanze istituzionali, hanno bisogno della presenza di noi consiglieri. Io sono presente su questa cosa, ci credo, anche perché in un momento storico difficile come questo è la cosa che più, la vicinanza e l'ascolto è la cosa più importante in questo momento. E poi se riusciamo ad ottenere le nostre piccole vittorie per il territorio, bene.